Eccoci qui come è stato, un saluto a tutti i ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, a lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte e che dire ormai buon weekend, ci siamo, inizio ufficialmente il weekend, che fate? Io stasera relax, divano, copertina, mi guardo, credo Masterchef che ieri non l'ho visto perché giocava al Milan, anche se oggi ho visto una pubblicità e ho capito anche chi forse hanno eliminato. Detto questo veniamo alle novità, intanto avete aderito tantissimi a questa promozione, a questo regalo, ve lo ricordo, ve lo metto qui sotto nel link, vi regalo con gli amici di Match Betting Academy questo corso gratuito con tre regali aggiuntivi per conoscere meglio questo mondo che non è azzardo ma è certezza del guadagno sfruttando i bonus che vengono messi a disposizione dai vari siti di scommesse. Si scommette poi, responsabilmente, sulla interezza dell'evento, quindi 1x2, però loro vi fanno capire quanto deve essere il rapporto aritmetico, oppure su goal non goal, su entrambi, così che si abbia la certezza, ripeto, con però il corso che è gratuito e i tre regali aggiuntivi che ci sono qui sotto nel link. L'avete visto in tanti, io personalmente ho scoperto qualcosa di interessante che non conoscevo e che permette anche di avere un guadagno aggiuntivo, di arrotondare o magari anche avere qualcosa in più che non guasta mai. Guardatelo qui sotto, è gratuito, quindi non perdete nulla, ne vale davvero la pena. Qui sotto il link di Match Betting Academy. Allora ragazzi, c'è stato oggi il sorteggio, ho fatto la live reaction sul mio canale personale, c'è ancora il video se volete vederlo. Ero un po' in tensione, perché a un certo punto, chi ha visto la diretta ha avuto lo stesso sentimento, era 50% Bayer Leverkusen, 50% Slavia Praga. Ho detto, con la sfortuna che nei sorteggi abbiamo ormai da un po' di tempo, temevo il peggio. Sarebbe stato, ecco, la chiusura di un cerchio che non si chiude mai e invece il 50% ci ha portato al club cieco, che è superiore al Rennes. È una squadra anche più fisica, è una squadra con più tradizione europea, è una squadra che quindi ha anche più consapevolezza. Noi abbiamo trasformato però il Rennes ieri in una squadra che ci ha impensierito, ci ha battuto di fatto e ci ha creato problemi, e quindi bisogna stare attenti, non attenti di più, allo Slavia Praga. Non bisogna commettere l'ora di sottovalutare l'impegno. Slavia Praga che è l'insegna della continuità di guida tecnica, è il sesto anno con il suo tecnico, ha battuto anche la Roma nel suo girone. È una squadra di Europa League, la definirei così. Noi siamo una squadra senza problemi a regime da Champions League, quindi dobbiamo battere lo Slavia Praga. Ma attenzione, non è scontato che battiamo lo Slavia Praga. Se giochiamo come abbiamo giocato ieri, l'ho detto anche in Mediterraneo e oggi su Calciomercato, ci mandano a casa il 14 marzo. Sono andata a 7 e ritorno il 14 marzo. Per questo ospicavo quella che io definisco una svolta. Sottolineo questo concetto svolta, perché se andiamo avanti così, l'abbiamo pensato tutti ieri, se andiamo avanti così non si va da nessuna parte. Per provare a dare ancora un senso a questo finale di stagione, finché un senso c'è, serve la svolta. E la svolta deve passare soltanto da una ricerca dell'equilibrio, una compattezza, andare a lavorare sulla distanza dei reparti, anche un po' sulla testa dei giocatori. Ma in generale siamo una squadra che concede le voragini agli avversari. La svolta arrivò nell'anno dello scudetto, ci mettiamo belli compatti, equilibrati, prendiamo soltanto 2 gol nelle ultime 11 partite. Ecco, mi piacerebbe avere lo stesso numero, 2 gol nelle ultime 11 partite o comunque in Europa League. Non chiedo tanto, però andare avanti così non solo non si va da nessuna parte, non si può più andare avanti così. Abbiamo una fase difensiva ridicola, diciamo le cose come stanno. E quindi per arrivare in fondo o provare a toglierci soddisfazioni serve la svolta. Altrimenti andiamo incontro a un'altra figuraccia e magari riusciamo anche ad essere eliminati dalla via Praga. Che ripeto, per quanto mi riguarda, per tradizione e consapevolezza è superiore comunque al Ren, con cui siamo passati, ma alla fine ragazzi, male male ieri. Ci sono delle buone notizie. C'è da Milanello la notizia del rientro di Calabria, un gruppo, del rientro di Calulu e di Tomori già negli scorsi giorni. Vedremo se verranno convocati 3 per la gara con l'Atalanta di domenica sera oppure no. Detto che prima di vedere Calulu e Tomori in condizioni accettabili parserà qualche settimana. In condizioni ottime, magari passo un mesetto e andiamo verso fine marzo. Stiamo vedendo le difficoltà a livello atletico che sta incontrando il nostro ciao. Però, dai, bene bene così. Per pensare di trovare anche equilibrio è fondamentale anche recuperare i difensori titolari, ma in generale la squadra è troppo messa male in campo. Mi sono concentrato sulla fase difensiva. Aggiungo che la fase offensiva, secondo me, dipende molto da palla Pulisic, palla Lea. Vediamo cosa succede. Non sto vedendo il gioco, come avrebbe detto il nostro presidente Silvio Berlusconi. E proprio su queste gare qui mi sarebbe piaciuto a maggior ragione ancora di più confrontarmi con il nostro Carletto Pogliani, che ci aveva visto lungo quest'anno. Anche quest'anno, su tante cose. Detto questo, quindi dei recuperi che sono comunque delle ottime notizie, bene così. Proseguendo poi nel video, ci vi segnalo che oggi ha parlato già su Azizze. Che cosa ha detto? Che si rivede in Ibra. Io, in un video, vi ho detto a me, ricorda il primo Ibra. Quello che arriva e che non ha ancora quella confidenza con la porta. Poi Ibra è diventato un signor attaccante anche nel rapporto con la porta avversaria, ovviamente. Cioè in fase realizzativa. E poi lui dice, non sono un 9 puro, sono un 9 e mezzo. Ecco, anche qui non dovrei rispondere, però viene da sorridere perché uno di voi, settimana scorsa, ha detto, capisci di calcio come, non dico neanche le paragoni che ha utilizzato, dicendo che non è un 9, guarda il gol che ha fatto. Purtroppo non tutti capiamo, non tutti abbiamo affinità con il gioco del calcio. Detto questo, lui oggi dice che non è un 9 puro, ma è più un 9 e mezzo. Quindi io l'ho definito spesso un attaccante con i piedi da trequartista. Una sorta di sottopunta. Sta facendo una grande stagione. Quest'anno lui è arrivato a 9 reti e 4 assist in Serie A, quindi ha partecipato a 13 reti, che è il 35% dei gol della sua squadra in campionato. Aggiungendo poi che ha fatto un gol e due assist in Coppa Italia, è già a 10 gol e 6 assist stagionali. Stasera gioca al Bologna con il Verona. Sbircerò magari proprio per quei capelli ricci. Ricordiamo che ha 22 anni, 22, quindi ha sicuramente degli step da fare a livello di consapevolezza, di fiducia, di personalità, ma anche in fase realizzativa. Con Capello che aveva fatto un lavoro su Ibrahimovic, grazie anche all'ottimo Itro Galbiati. Ho ricordato oggi tre persone che non ci sono più, trasformandolo di fatto in un bomber, in un bomber vero. Joshua Zirkze, che ragazzi, in questo momento è il giocatore per cui il Milan si è mosso più concretamente per la prossima stagione per l'attacco, senza dimenticare quel Benjamin Sesco che è sempre decisamente monitorato. Vediamo che cosa succede, come prosegue la stagione. Personalmente spero che faccia bene, ma non benissimo, perché altrimenti davvero qui arrivano club inglesi uno dietro l'altro e a quel punto rischia di non esserci purtroppo partita. Secondo me sarà importante anche capire dove è entrato Tiago Motta, dove va Tiago Motta, c'è la possibilità che vada anche lui, questa è stata la loro promessa che si sono fatti prima di Natale. Vedremo se arriverà poi alla spunta verde o se le strade si separeranno oppure magari restando entrambi in Italia. Poi, proseguendo nel video, ieri c'è stato quel comunicato sullo stadio e abbiamo detto appunto che in tre mesi WeBuild deve presentare questo progetto, però concreto, non soltanto parole, nei fatti. Risulta che il punto quale sia? Ovviamente la possibilità di giocare quando c'è questa ristrutturazione con il Milan che vorrebbe delle penali pesanti nel contratto qualora non fosse garantito l'ingresso nello stadio dei tifosi e quindi in troiti, in casso. Dall'altra parte, pare che un altro punto importante sia quello dei cosiddetti posti hospitality e premium, cioè quelli dove si mangia, al ristorante, si beve, quelli che costano anche tanto, che oggi sono lì al Primo Rosso, no? Io sono stato soltanto una volta da quelle parti, altrimenti sono al secondo, al terzo, detto che poi ovviamente anche in tribuna stampa. ultimamente però mi piace quando vado allo stadio prendere il biglietto, andare con la mia famiglia e non sfruttare la possibilità di andare gratuitamente, fare il tifoso totale e completo. Detto questo, il punto è questo. La ristrutturazione deve portare i posti dell'ospitali dei premium che oggi rappresentano soltanto il 3% di tutti i posti dello stadio di San Siro al 18%, quindi 6 volte tanto, 18% che la media europea, degli stadio europei, dei big club, che quindi hanno stadio magari di proprietà e hanno 1 su 5 quasi, che è lusso costoso e molto remunerativo per il club. Se riusciranno a garantire il discorso del giocare mentre si ristruttura e quindi con il pubblico che paga e quindi l'incasso e anche che si può portare al 18% l'ospitality, allora Milan e Inter paiono disposte ad abbandonare i loro progetti. Rozzano vero presunto dell'Inter, San Donato vero del Milan, che nel frattempo comunque sta proseguendo e andrà avanti. Però ecco, la sensazione, lo diciamo da tanto tempo, è che si farà San Donato soltanto se San Siro, questo nuovo San Siro ristrutturato, non avrà, diciamo così, le gambe per camminare. Altrimenti, tanti mesi di belle frasi, promesse, proclami, manifesti, buttati via, spazzati via. Poi, ragazzi, in questo video volevo riflettere un po' anche su un giocatore. Questo giocatore è Samuel Ciukwetze. Ieri è entrato, ha fatto poco, ma quel poco che ha fatto non l'ha fatto bene. Ricordiamo che lui ha 24 anni, fa 25 a mancio, stagione fin qui deludente, di 21 partite, in realtà sono 10, perché ha fatto 869 minuti, due gol e un assist. Numeri non così negativi, perché due gol e un assist li ha fatti, e un esterno non sono comunque soddisfacenti, però il rapporto con De Chetelare dello scorso anno, meglio lui. Però le prestazioni sono spesso deludenti. Ogni tanto ha il guizzo, però lo vedo poco nella partita, lo vedo poco all'interno del gioco di squadra, e questo però è un po' preoccupante. Cioè, la domanda è, non è che magari abbiamo sbagliato il giocatore, che questo è un giocatore bravo in Liga, ma che nella Serie A non è un giocatore da Serie A, questo può essere la discussione. Lui ha fatto 15 partite in Serie A, vediamo, ha 1,1 tiri in porta, tiri per partita, scusate, 0,3 in porta, è poco, poi un assist, poca roba, 0 gol in Serie A, 24 tocchi a partita, 82% passaggi riusciti, un takele, dribble riusciti, 31%, ecco, per uno che ha del dribble e la sua qualità migliore, come era in Liga, azzeccarne soltanto 1 su 3, è poco, poco, 31%, due alli vinti, 40%, 7,2 palle persa a partita, in generale, poca, poca, poca pericolosità, e soprattutto, dopo un po' di mesi, travagliati, perché ha avuto l'infortunio, è arrivato anche un po' tardi, in ritardo di condizione, poi ha avuto la Coppa d'Africa, però la sensazione netta, è che non si è entrato proprio, negli schemi di Pioli, voi direte che schemi sono, anche questo è vero, cioè, la gestione tecnica quest'anno del Milan, non aiuta, uno come Ciukhezze, che però deve metterci del suo, e sta un po' mancando, purtroppo quando gioca Pulisic, cioè per fortuna che c'è Pulisic, vedi che c'è una differenza abissale, Pulisic è giocatore con la G maiuscola, completo, qualitativo, intenso, giocatore vero, che gioca, che partecipa e costruisce gioco, Ciukhezze, tutto l'opposto, eppure a me, Ciukhezze stimolava tantissimo, in estate, vi posso, mi è stato raccontato ieri, questo retroscena, Giuntoli, quando Milan prende Ciukhezze, dice, hanno fatto un gran colpo, e hanno preso una sorta di leao sulla fascia destra, quindi Giuntoli, che lo fa di lavoro, riteneva che Ciukhezze era un colpo importante, Moncada, che lo fa di lavoro, ritene che Ciukhezze fosse un colpo importante, a oggi non si vede, sinceramente non, non seguo chi dice, cediamolo in estate, cerchiamo di recuperare quello che possiamo, io un altro anno ovviamente glielo do, detto che magari da qui a fine stagione fa la differenza, me lo auguro, ma non mi sembra di intravedere questa evoluzione, questa svolta, per il resto, vediamo il prossimo anno, con un nuovo allenatore, con un anno in più sulle spalle, ambientamento, speriamo zero problemi fisici, niente Coppa d'Africa, se svolta, le qualità le ha, le ha fatte vedere, soprattutto in Spagna, al Milan un po' meno, però oggi davvero una grande delusione, 20 milioni più 8 di bonus da verificare, perché se il Milan non fa bene, lui non fa bene, non è detto che si verifichino, però ecco, purtroppo male, 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 grande delusione ad oggi, voi come la vedete, da che parte state, su ciocquezze, scrivetelo qui sotto nei commenti, vi ricordo di, usufruire del corso gratuito, qui sotto di Match Betting Academy, basta cliccare sul link, poi ditemi che ve ne pare, che ne pensate, è molto interessante, ripeto, aumentate la vostra conoscenza, e secondo me vi si può aprire anche un mondo interessante, anche da un punto di vista remunerativo, guardatelo qui sotto, ve lo metto nel link, è gratuito, ci sono anche tre regali aggiuntivi, iscrivetevi numerosi, e mando un abbraccio a tutti, più tardi il video di Leonardo Martinelli, direttamente da Ren, un abbraccio.